Benvenuti a TGM, il telegiornale nazionale italiano del bloc, il giornale della giornata. Questi i titoli di oggi. Matteo Renzi rassicura, ci saranno interventi sulle pensioni. Il leader israeliano Shimon Peres è morto a 93 anni. Presentata a leggi di bilancio francese, possibili sforamenti, Pagamenti sui conti correnti, alcune banche confermano. Antonio Di Pietro condannato a pagare per accaparramento fondi. In Marola Torre potrà stare in Italia anche dopo il permesso. Maestre elementari ai domiciliari per maltrattamenti sui minori. Rapporto Censis sulla comunicazione, vincono i social tra i giovani. La classifica dopo la sesta giornata di campionato di Serie A. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi fa sapere nella giornata di incontro con i sindacati che gli interventi per le pensioni ci saranno e che non c'è dipendenza di questo con le trattative con Bruxelles per la flessibilità. L'articolo che il sito del quotidiano La Stampa dedica a questo annuncio sottolinea il fatto che alle orecchie di qualche sindacalista questo annuncio può significare una frenata sugli investimenti scesi dai 2 miliardi iniziali del governo a fronte di una richiesta sindacale di 2,5 miliardi fino alla cifra di 1,5 miliardi annunciati durante la trattativa. In un intervento alla radio RTL il premier sottolinea che per le pensioni minime ci potrà essere una sorta di quattordicesima. Dopo due settimane ricoverato all'ospedale Sheba di Tel Aviv, Shimon Peretz ci ha lasciato all'età di 93 anni. Uno dei padri fondatori di Israele aveva vinto il premio Nobel per la pace insieme all'epoca premier Rabin e al presidente palestinese Arafat per gli accordi di pace di Oslo nel 1993. Aveva concluso il suo mandato di presidente del paese nel 2014 dopo 7 anni di presidenza. Ha ricoperto molte cariche politiche tra cui ministro del paese e premier dello stesso. Concluso il suo mandato presidenziale aveva sempre agito tramite la sua fondazione Centro Peretz per la pace a Giaffa ottenendo il rispetto e l'accoglienza di tutti i paesi visitati. Sarà ricordato tra le altre cose come il falco che divenne colomba. Presentata in Francia la legge di bilancio dal ministro delle finanze Sapen. Dopo diversi anni di sforamento del patto di stabilità al 3% si annuncia per il 2017 un mantenimento della percentuale leggermente sotto il 3%. Ma con l'incombenza delle elezioni presidenziali a maggio e con una eccessiva previsione sul PIL del paese dopo l'abbassamento della stima da parte del Fondo Monetario Internazionale si dubita che la percentuale rimanga sotto il 3% per riuscire a fare contenta all'Unione Europea. La Francia, insieme all'Italia, rimane il sorvegliato speciale per la sostenibilità dei conti pubblici. In un articolo che il sito del quotidiano Il Giornale ha compilato partendo da un articolo del quotidiano online all'inchiesta si fa sapere che alcuni istituti di credito italiani metteranno una tassa su alcune tipologie di conti correnti. Tra gli istituti contattati da Il Giornale hanno risposto il Banco Popolare e UbiBanca che hanno confermato l'utilizzo di questa tassazione. I due istituti bancari hanno confermato di essersi trovati di fronte ad un aumento della quota partecipativa al Fondo Nazionale di Risoluzione cioè il fondo che viene utilizzato per il salvataggio delle banche in dissesto. In questo caso sembrerebbe prefigurarsi una tassazione per il salvataggio di, tra le altre cose, Banca Etrughe, Banca Marche, Cari Ferrara e Carichieti recentemente note alle cronache per problemi di investimenti ai correntisti. Un articolo del sito del quotidiano La Repubblica fa sapere che l'ex PM italiano e fondatore del partito Italia dei Valori Antonio Di Pietro è condannato dal Tribunale di Roma a resarcire il gruppo politico Il Cantiere di Achille Occhetto e Giulietto Chiesa per aver intascato al posto loro un finanziamento pubblico della Camera dei Deputati per un ammontare di 5 milioni. La cifra che Di Pietro dovrà rifondere al movimento di cui era alleato è circa la metà di quanto intascato. Di Pietro, interpellato dalla Repubblica, non ha preferito rilasciare dichiarazioni. Nel caso di La Torre Gironi, i due fucilieri di Marina accusati di aver ucciso due pescatori a largo delle coste del Cherala in India arriva per La Torre colpito da Ictus nel 2014 e autorizzato a diversi permessi in Italia per le necessarie cure la possibilità di rimanere in Italia come per Girone in attesa dell'arbitrato internazionale sul caso in questione. In un tweet il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni fa sapere che La Torre a cui era accordato un permesso in scadenza il 30 settembre di quest'anno resterà in Italia e aspetterà il pronunciamento della Corte Internazionale dell'AIA, sede dell'arbitrato, in corso. In un grosso centro della provincia di Palermo denominato Partinico tre maestre elementari, di cui una di sostegno sono state arrestate e condannate ai domiciliari dopo essere state riprese da telecamere segrete a malmenare i bambini in tutti i modi possibili dagli schiafi alle testate. A insospettire i genitori di una bambina della classe è stato il comportamento della stessa con le sue bambole dato che i bambini erano troppo piccoli per poter denunciare la cosa. E l'articolo a riguardo del sito del Quotidiano La Repubblica sottolinea che da parte delle altre famiglie degli alunni della classe non c'è stata collaborazione con gli inquirenti. L'Istituto Censi si è messo il tredicesimo rapporto sulla comunicazione. Tra le sue pagine di statistiche e di percentuali viene fuori che sempre più l'oggetto giornale cartaceo perde lettori. La televisione rimane stabile come oggetto di informazione per tutte le fasce d'età con leggere flessioni tra giovani ed anziani mentre invece sempre più si fa largo la comunicazione attraverso i social network e i sistemi di trasmissione messaggi come Whatsapp. Da parte delle giovani generazioni come riporta l'articolo a riguardo del sito del Quotidiano La Repubblica i social network si stanno configurando come il principale veicolo di informazione a discapito delle forme tradizionali come i telegiornali. Dopo la sesta giornata di campionato la classifica di Serie A si compone in questo modo la Juventus con 15 punti capolista il Napoli con 14 l'Inter con 11 punti la Roma e il Lazio il Milan il Chievo e il Bologna 10 punti il Sassuolo 9 punti Genova 8 punti Fiorentina seguono insieme e Torino 8 punti Cagliari-Udinese 7 punti Pescara-Atalanta-Sampdoria 6 punti Palermo 5 punti Empoli 4 punti ultima in lista il Crotone con 1 punto. E adesso è arrivato il momento delle previsioni a cura del sito ilmeteo.it Un caro saluto ed un grandissimo abbraccio a tutti gli amici di ilmeteo.it Previsioni per giovedì 29 settembre L'alta pressione si rinforza ulteriormente sole prevalente e ultimi disturbi sulla Sicilia ionica Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it Al nord bella giornata di sole con cielo sereno o tutto al più poco parzialmente nuvoloso specie sul Friuli-Venezia-Giuli Spostiamoci al centro sarà qui decisamente soleggiato con cielo terzo su tutte le regioni anche il clima sarà molto gradevole Raggiungiamo infine il sud più nubi potranno interessare i settori ionici della Sicilia anche con occasionali piovaschi altrove il sole sarà dominante come saranno invece i venti soffieranno debolmente e da direzioni variabili Concludiamo come di consueto con le temperature previste per questa giornata Le minime risultano essere pressoché stazionari e con valori compresi tra 8 e 21 gradi su tutte le nostre regioni Durante il giorno invece prevediamo 23-29 gradi al nord tra 21 e 26 gradi al centro e fino a 27 gradi al sud Ilmeteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook così da essere sempre aggiornati sulle nostre news Arrivederci Il telegiornale si ferma qua Ci vediamo domani sera per le prossime notizie